Buongiorno, vi presentiamo la nostra nuova acquisizione, siamo in una zona meravigliosa di Modena, a due passi del Policlinico, palazzina di recente costruzione, attico unico al piano con uno splendido terrazzo. Venite che vi mostro la zona giorno. Accesso direttamente in sala con un ascensore del codice arrivato, abbiamo anche comunque l'accesso alle scale. Ecco la sala, un'avventura importante, tutto finestrata, con un accesso a un meraviglio terrazzo che abbiamo visto prima. Da questa parte abbiamo la cucina, cucina abitabile, separata con porte scorrevoli a vetro per far passare più luce. Vedete com'è che vi mostro la zona notte. La zona notte abbiamo tre camere da letto, quinta prima, seguita poi in questa notte da un meraviglioso bagno completo sia di rossa che pasca. In questa parte abbiamo l'altra camera matrimoniale e qui invece c'è la camera padronale. la camera padronale è dotata anche di cammini armati o cappé, come vedete un bagno privato. Una meravigliosa doce spaziosa. la camera padronale è dotata anche di cammini armati o cappé, come vedete un'altra cosa. Palazzina di sette unità abitative, attico unico al piano, riscaldamento al palimento, completamente climatizzato, parquet ovunque, finiture di pregio. La zona è comoda a tutti i servizi. Per info contattatemi a 333 33 55 206. Grazie.